Sarà un venerdì di scioperi. Il 29 novembre rischia di essere un giorno di disagi per varie tipologie di utenza. L'obiettivo dei sindacati è quello di chiedere di cambiare la manovra di bilancio considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. C'è innanzitutto lo sciopero nazionale dei trasporti che coinvolgerà autobus, metro, tram, autostrade e aerei ma non i treni. Al posto delle otto ore inizialmente previste lo sciopero del trasporto locale è stato ridotto a quattro a seguito del pronunciamento del Tar. Nel bellunese Dolomiti Bus avvisa non saranno garantite le corse dalle ore 9 alle ore 12 e 09. Le corse in partenza prima dell'inizio dello sciopero verranno effettuate regolarmente e le stesse, una volta iniziate, proseguiranno sino al capolinea. I disagi per lo sciopero del personale autostradale, invece, si prolungheranno per 24 ore, braccia incrociate anche per i settori sanità e scuola. Nell'ambito formazione si asterranno dal lavoro il personale del comparto istruzione e ricerca e dell'area dirigenziale, i docenti universitari e tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali. Nella sanità CGL e UIL hanno proclamato un'agitazione anche per medici, dirigenti e convenzionati della medicina generale, specialisti ambulatoriali, veterinari, psicologi, biologi, chimici, fisici, farmacisti e dirigenti delle professioni sanitarie. Nel mirino quella che viene definita la peggiore legge di bilancio degli ultimi 30 anni, che taglia risorse a personale e servizi per lasciare il campo libero al profitto e al privato.